DECIMO GIRO AEREO DECIMO GIRO AEREO La Juventus lo ha comperato dal River Plate per 170 milioni, gliene hanno offerti 200 che sono stati rifiutati, Omar non si vende. Per 90 milioni la Lazio ha comperato un blocco della Fiorentina tra i giocatori. Il bisano Giacomo Del Gratta di 22 anni, terzino ambidestro, alto 1,80 di 79 kg, scapolo. L'abruzzese Claudio Bizzarri, ala ambidestra di 24 anni, alto 1,71 di 72 kg, celibe. Il fiorentino Maurilio Primi, ala sinistra di 26 anni e alto 1,78 pesa 81 kg, è sposato senza figli.